Innanzitutto è stato un grande risultato dieci anni fa, nel 2003, ottenere questo riconoscimento importante. Esistono pochi territori in Italia ad avere questo riconoscimento. La DOCG ricordiamo che è il riconoscimento più alto per un territorio che appunto riconosce la sua vocazione all'eccellenza. In questi dieci anni siamo partiti dal basso, dai nostri produttori e piano piano abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci sembrano delle pietre miliari sulla giusta strada. Noi stiamo andando avanti con questa promozione, con una misura del 1-3-3 del piano di sviluppo rurale. Credo che è una misura importante, ci sono risorse importanti, ma ancora più importante è la mentalità che è cambiata in Abruzzo e che anche questo consorzio, seppur giovane, ma che comunque ha saputo cogliere, nel senso che la politica fa un passo indietro, mette a disposizione risorse europee, incendi, per poter fare la promozione. Però sono parziali, l'altra parte lo devono mettere loro, quindi credo che sia un passaggio culturale fondamentale. D'altronde chi è aderito a questo consorzio già lo ha fatto questo passaggio, perché far nascere un consorzio dieci anni fa non era una cosa facile. Assoggettarsi a disciplinari che sono molto rigidi, che vengono controllati non solo da noi, ma addirittura anche dalla comunità europea, vuol dire aver fatto un salto culturale importante. Ecco perché oggi credo che sia un bel giorno per l'Abruzzo e per la provincia di Teramo.